La dieta perfetta E i nostri ospiti quindi Salvatore Baiamonte Che assieme allo chef Joseph Puma hanno scritto il libro La dieta perfetta Eccolo qua Parleremo di questo libro, parleremo insomma anche di quello che c'è stato dietro per scriverlo, per realizzarlo Parleremo del contenuto di questo libro Faremo vedere anche delle slide poi più avanti da qualche minuto Nel quale lei dottore spiegherà alla gente un po' i suoi segreti contenuti in questo libro Innanzitutto, com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Anni fa quando io ho finito il corso di formazione in dietologia a Roma Ho fatto il master a Roma Un amico di Aragona, Salvatore Graceffa Mi ha regalato un libro Esattamente il libro di Montignac Che in Italia è pubblicato dalla OBM Work E mi ha chiesto di fare una dieta in base alla teoria e ai principi di Montignac Ebbene dopo quattro anni io non solo io ho fatto la dieta ma anche pubblicato poi per la stessa casa editrice Perché ho visto che il dottor Montignac è un autorevole dietologo francese Che utilizza un particolare metodo dietetico che fa uso del concetto degli indici glicemici Ora, siccome ho visto che ha venduto nel mondo parecchi libri col suo metodo basato sugli indici glicemici E' il libro che adesso ha in mano No, no, questo è quello mio, la traduzione francese del mio libro Quindi gli faccio concorrenza in Francia, questo è il discorso Questa è l'edizione italiana E come ho visto che ha venduto molti libri con la teoria degli indici glicemici Io spero col mio libro di vendere a molti libri con la teoria classica Infatti lui parla di indice glicemico come quel particolare fattore che è responsabile dell'ingrassamento Infatti lui parla di particolari alimenti che se hanno un indice glicemico molto alto Provocano un'elevata quantità di insulina, concentrazione di insulina nel sangue Che è responsabile dell'ingrassamento Invece io non parlo di questo E nega addirittura l'esistenza dell'energia Cioè l'esistenza delle chilocalorie Invece io dico no Dico che le chilocalorie esistono L'energia esiste, non si può negare E che tutto è in funzione del primo principio della termodinamica Che è il principio della conservazione dell'energia E del secondo principio della termodinamica Praticamente gli indici glicemici sono assorbiti nei principi della termodinamica Sì, lui parla di network immunitario Cioè in questo caso, scusi, di network ormonale Esattamente dell'insulina Altri parlano anche di un particolare network E il rapporto tra l'insulina e il glucagone Ma io ho sempre detto che all'equilibrio Qualsiasi tipo di network ormonale Una volta in equilibrio in un organismo In un corpo umano che sta bene di salute Una volta raggiunto l'equilibrio Quel particolare tipo di network Che è costituito da 2, 3, 4, anche 10 ormoni Come afferma il dottore Azizi Quel particolare tipo di network Una volta equilibrati Devono sempre rispettare il primo E il secondo principio della termodinamica Benissimo Ora cerchiamo anche di far capire meglio Alla gente che ci segue da casa Che magari avrà avuto qualche difficoltà a seguirla Qui io leggo La dieta perfetta Come raggiungere il proprio peso o forma È una cosa che assolutamente interessa In modo semplice Gratificante e divertente Attraverso un'alimentazione Fisiologicamente equilibrata E personalizzata Lo chiedo a questo punto allo chef Ma si può dimagrire divertendosi a mangiare? Assolutamente sì A me sinceramente È toccato il compito molto più semplice Che è quello di aver dato corpo A ciò che sono i principi fondamentali Del metodo Bayamonte In questo Tenevo a precisare Che non è un ricettario Ma è un semplice Un esto manuale Che ci permette esattamente Di poter dimagrire Io ho riordinato esattamente Secondo il metodo Bayamonte Utilizzando Utilizzato Esatto Utilizzando gli ingredienti sovrani I condimenti sovrani Che si possono seguire nella dieta Le ho racchiusi tutte In semplici ricette Elaborate 19 Che vanno dal pesce A la carne La pasta Ci sono anche delle ricette Fatte apposta Posso evitare anche D'andare dal dietologo? No Che parecchie persone Hanno bisogno Dell'appoggio Di un dietologo Per seguire Il regime dietetico Ma anche tante altre persone Ne hanno bisogno Questo libro Lo posso utilizzare Sia chi ha bisogno Di un dietologo Chi si rivolge A un dietologo Come un aiuto Per capire I principi Di base La dietetica Sia soprattutto Di chi non ha bisogno Di un dietologo E vuol seguire Il proprio particolare Il regime dietetico In questo caso Basta solamente L'appoggio Del proprio medico curante Che io come ho affermato Nel libro Come ho detto Nel libro Ma lo dico Qui pubblicamente In trasmissione E' sempre giusto Rivolgersi a un proprio Professionista E non seguire mai Un regime dietetico Da solo Quindi chi utilizza Il libro Per favore Faccia sempre Riferimento Al proprio medico curante Questa è la seconda edizione La prima Si è favorita In pochissimi mesi Addirittura Si Si è favorita subito Istantaneamente Edito dalla Hobby & Work Una casa editrice Davvero di tutto rispetto Che pubblica anche Altri libri Come ad esempio Quello di Carlo Lucarelli O il famoso Montagnac Di cui parlavamo poco fa Io qui ho un libro Di Paul Davis Invece Che dice Come costruire una macchina Ed esplorare il tempo Ovviamente è un libro Scritto in francese Ho questo libro Semplicemente perché Questo è uno dei libri Uno degli autori Che lei da sempre Ha amato Si ma sono cresciuto Con i libri Quando andavo al liceo Leggevo assiduamente Tutti i libri Di Paul Davis E che relazione abbiamo Con La Dieta Perfetta Quindi Perché Che è successo? E' successo Che questo è L'edizione italiana Questa è l'edizione italiana Del libro La Dieta Perfetta E questa è l'edizione francese Del libro La Dieta Perfetta In Francia Lo ha tradotto Il professore Robert Dufti Che è uno dei più bravi Uno dei più eminenti Scienziati francesi Ebbene Paul Davis Pubblica In Francia Pubblica pure Per la mia stessa casa Editige In Canada Ho visto che in Canada La quotazione dei libri Va di pari passo Cioè I libri di Paul Davis Che è la vita che scrive Insomma E Paul Davis è un famoso autore È un autorevole autore Che da una vita che scrive E ha libri di successo Ebbene Questo libro E il mio libro E il suo libro Vanno di pari passo Ma lei è un po' modesto Diciamo pure che il suo libro L'ha anche superato Per diversi libri In qualche Ci sono stati giorni Che il libro È arrivato anche al primo posto Il mio libro Rispetto al libro di Paul Davis Però parliamo sempre Come i libri I libri di EDP Science Non come Canada Allora Noi poco fa Parlavamo Di vedere queste slide Prima di vederle Di chiederle Di accomodarsi Nella trapostazione Solamente Un consiglio Per chi vuole Creare una ricetta Ancora diversa Rispetto a quelle che Ci sono nel quinto capitolo Perché abbiamo cinque capitoli In questo libro Allora In queste In queste 19 ricette Realmente Io ho messo a frutto I prodotti Che rappresentano La Sicilia La Sicilia Possiamo mandare Realmente Di una grande Tradizione culinare Quindi Gli alimenti Che noi abbiamo Che ci dà la nostra terra Sono così Proprio alla portata Che ognuno Può divertirsi Seriamente E realmente Come meglio Gli pare Nel Nel Un consiglio Che do un po' A tutti Coloro Che ci leggeranno Ci danno l'onore Di leggerci È quello Di utilizzare Delle cotture Soft Perché spesso Nelle cotture Realmente Si utilizzano Alimenti Che possono essere Magari dietetici E nelle cotture Diventano appunto Bombe caloriche Quindi No alle Fritture No Ad aggiunta Di grassi Tanto più Se sono Grassi Industriali Come le marcherine E così via E sì A tutte le cotture Soft Come la cottura Flavore I lessi E tutto Bene Noi ci rivediamo Subito dopo Intanto Prego Si può conoscere Nella postazione Così iniziamo Con la visione Di questo slide Questa Questa immagine Viene rappresentata Alla copertina Della seconda edizione Del libro La dieta è perfetta Questa 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 immagine Viene rappresentata La copertina Dell'edizione In francese Della traduzione Del libro La dieta è perfetta Il libro E' venduto Tramite Portale Amazon In tutto il mondo Per presentare Il mio libro E' intenzione Di incominciare Mostrando Ai telespettatori Questa figura In questa figura Viene mostrata Una tipica locomotiva Che è stato Un mezzo Di locomozione Dei primi anni Del secolo scorso Questa locomotiva Per poter funzionare Per potersi muovere Ricavava energia Dalla combustione Del carbone Esattamente La reazione Dalla combustione Che avveniva Tra l'ossigeno E il carbone Questa combustione Produceva Energia necessaria Affinché La locomotiva Potesse muoversi E nello stesso tempo Produceva Come prodotti Di scarto Anidride carbonica E acqua L'anidride carbonica Ha formula CO2 L'acqua Ha formula H2O Mentre l'ossigeno Ha la formula O2 In questa figura Viene mostrata La macchina Del professore Puma Il professore Puma E' lo chef Che ha fatto Le ricette del libro Anche la macchina Del professore Puma Per potersi muovere In necessità Di energia Questa energia La recava Dalla combustione Tra gli idrocarburi Presente in air diesel E l'ossigeno Quindi La Fiat estilo Del professore Puma Per potersi muovere Ottiene energia Dalla combustione Che avviene Tra il diesel E l'ossigeno Da questa combustione Si ricava Energia E Come prodotti Di scarto Sempre anidride carbonica E acqua Anche la mia macchina Cioè la Fiat Panda Del dottor Baiamonte Per potersi muovere Necessità di energia Questa energia La recava Dall'ossidazione Che avviene Tra il metano E l'ossigeno Da questa combustione Si ottiene Energia necessaria Per il movimento E nello stesso tempo Si ottiene Come prodotto Di scarto Sempre anidride carbonica E acqua E acqua Allo stesso modo Il signor dieta Questa figura Viene mostrato Il signor dieta Il signor dieta È uno dei protagonisti Del mio libro Anche il signor dieta Per potersi muovere Utilizza la combustione Esattamente La combustione Che avviene Tra i nutrienti Che sono presenti Negli alimenti E l'ossigeno Quindi Da questa combustione Il signor dieta Ottiene Energia necessaria Per poter fare Il suo allenamento Mattutino Per potersi muovere E nello stesso tempo Produce Come prodotti Di scarto Anidride carbonica E acqua Come potete vedere Dalla bocca Del signor dieta Fuoriescono Anidride carbonica E acqua Pensate Al vapore acqueo Che esce Dalla vostra bocca Durante una gelida Giornata d'inverno Naturalmente L'energia Che il signor dieta Ottiene dall'ossidazione Gli alimenti Non serve solo Per il suo movimento Ma serve anche Per potersi mantenere In vita In questa figura Viene mostrata La tipica Due tipiche strutture Molecolari Dei nutrienti Che si trova Gli alimenti Esattamente La struttura Molecolare Del lipide Segnato ora E la struttura Molecolare Di un polisaccaride Queste sono Sono delle tipiche Strutture Molecolari Che si trovano Nei nutrienti Degli alimenti Nel primo caso Si tratta Di un grasso E il secondo grasso Di un carboidrato Esattamente Il glicogeno Anche in questa figura Vengono mostrate Vengono mostrate Le strutture molecolare Queste strutture molecolare Sono In alto La struttura molecolare Della limina Che è il componente Fondamentale Del carbonio Mentre in basso A sinistra La struttura molecolare Di un tipico Idrocarburo Che si trova Nel diesel Mentre a destra Viene mostrata La struttura molecolare Tridimensionale Del metano Della molecola di metano Ora se io Sovrappongo Le due figure Noterete che La struttura molecolare Dei nutrienti Che si trovano Gli alimenti Cioè esattamente La struttura molecolare Del lipide La struttura molecolare Del core carboidrato La struttura molecolare Della limina La struttura molecolare Del metano E degli idrocarburi Hanno come base Il carbonio Quindi Il signor Dieta La macchina del professore Puma La macchina del dottor Baiamonte E la locomotiva Per funzionare Devono rispettare Gli stessi principi E la fisica Che sono i due principi Fondamentali Cioè Il primo principio Della termodinamica E il secondo principio Della termodinamica Esattamente Il principio Della conservazione Dell'energia E il principio Della conservazione E il principio Dell'entropia Il principio Della conservazione Dell'energia E il primo principio Il principio Dell'entropia E il secondo principio Che sarebbe L'aumento Del disordine Verso l'esterno Questa figura Viene mostrata Un crattagelo Alto 500 metri Questa foto L'ho scattata io Quando sono stato A New York A cercare Gli editori americani Viene mostrata anche Questa figura Viene mostrata anche Il signor Francesco Che è il protagonista Principale Del mio libro Nel capitolo Più importante Del libro La dieta perfetta Che si parla Della relazione Tra energie E alimenti Faccio fare A signor Francesco La fatica Di salire Un crattagelo Alto 500 metri Naturalmente A piedi Utilizzando Le scale Ebbene Supponendo Che il signor Francesco Ha un peso Espresso in chilogrammi Che è di 90 chili Ho calcolato Che il signor Francesco Per salire Un crattagelo Alto 500 metri Fa una fatica Meccanica Esattamente Il lavoro meccanico Di 441.000 joule Che corrisponde A 105 kilocalorie Esattamente Meno di 30 grammi Di grissino Questo capitolo Questo esempio Questo mi è servito Per prendere il lettore Per mano E piano piano Portarlo A fare un percorso Dietetico In modo che a lui Gli vengano spiegati In maniera semplice Ma scientificamente rigorosa Tutti i segreti E i meccanismi Della dietetica Perché credere Ai calcoli Che io ho fatto Nel mio libro È semplice Perché questo metodo È servito Agli scienziati Della NASA Gli stessi calcoli Che ho utilizzato Nel libro La dieta perfetta Sono gli stessi calcoli Che hanno utilizzato Gli scienziati E la NASA Utilizzano oggi Per i viaggi spaziali Attuali Quindi Che cosa voglio comunicare Col mio libro Semplicemente una cosa Che il segreto Della dietetica È solamente uno Cioè Non c'è nessun segreto È importante Sapere infatti Che in ogni teoria dietetica Dieta Atkinsi Dieta Zona Low Card Malibu Okinawa Eccetera La relazione tra energia E la quantità di alimenti È sempre la stessa O si parla di una dieta Ipocalorica O di una dieta Normocalorica O di una dieta Ipercalorica La dieta ipocalorica Va da 1200 A 1500 Kcal La dieta normocalorica Da 1600 A 2000 Kcal La dieta ipercalorica Da 2100 A 2500 Addirittura Qualche volta Fino a 3000 Kcal Comunque Sempre E solo Un'assunzione Di una quantità Di alimenti Moderata Con pochi grassi E un'adeguata Attività fisica Il metodo dietetico Del dottor Baiamonte Ha la caratteristica Di indicare al lettore La giusta rotta Da seguire Per raggiungere O avvicinarsi A proprio peso forma Ma questa rotta Viene eseguita Da soli? No Non la seguite Da soli La seguite In compagnia Con un vostro Grande alleato Che è Il metabolismo Di base Che può essere Considerato Il vostro Angelo Custode Vi accompagna Mano a mano Passo a passo Nel vostro Nel vostro Percorso dietetico Il metabolismo Di base O metabolismo Basale Che vi si voglia È quell'attività Metabolica Dell'organismo Umano Che è in funzione Anche quando L'uomo Si trova In completo Deposo Oppure Svolge Una comune Attività Quotidiana Lo dovete Considerare Di vostro Miglior Alleato Infatti Esso ha un consumo Energetico Corrispondente Al 70-80% Rispetto a tutte Le chilocalorie Che in media Un uomo E una donna Consumano Ogni giorno Queste calorie Corrispondono A circa 2500-3000 Chilocalorie Al giorno Per l'uomo E 2500-2500 Chilocalorie Al giorno Per la donna Nel mio libro Vengono proposte Quattro diete Di base Personalizzabile Queste diete Possono essere Personalizzate Sia dal punto Qualitativo Sia dal punto Di vista Quantitativo Le diete Possono essere Specialmente Con la seconda edizione Possono essere Personalizzate Dal punto Di vista Quantitativo Grazie ad un altro Importante concetto Che è il concetto Del fattore Di incremento Energetico Voglio anche Far capire Che il metabolismo Di base E quel particolare Meccanismo Che vi permette Di riposare Che vi permette Di dimagrire Mentre voi Siete in completo Riposo E soprattutto Vi permette Di dimagrire Mentre voi State facendo Una semplice Passeggiata Al mare Oppure Una semplice Passeggiata In campagna O in città E non occorre Fare una grande Fatica Come la stanno Facendo Questi ragazzi Rappresentati In questa slide Perché Vedere al mio metodo Perché Gli stessi calcoli Che io ho utilizzato Nel libro La dieta perfetta Cioè L'evoluzione Dei calcoli Che io ho utilizzato La dieta perfetta Le ho utilizzate A patologia Quando sto facendo La tesi specializzazione Per mettere a punto Un protocollo Che riguarda Le stazioni del DNA Con la tecnica Del fenolo cloroforneo Che oggi Ha utilizzato Tutti i migliori Laboratori Di ricerca scientifica Al mondo In questa slide Viene mostrata La pagina più importante Della mia tesi laurea Vengono anche mostrati I calcoli Di fisica quantistica Che ho utilizzato Questi calcoli Sono l'evoluzione Dei calcoli Che io ho utilizzato In il libro La dieta perfetta Quindi I calcoli In il libro La dieta perfetta Trattano Una fisica Che è applicata Alla termodinamica Classica Mentre questi calcoli Che io ho utilizzato A patologia Quando ero specializzato In patologia clinica Parlano E trattano Dei calcoli Che si utilizzano Nella termodinamica Quantistica Questi calcoli Come ho detto poco fa Mi sono serviti Per mettere a punto Un protocollo Di estazione del DNA Che oggi è utilizzato Nei migliori laboratori Di ricerca scientifica Per concludere Sendo il dovere Di dire Che questo semplice Manuale Di nutrizione umana È in pinte conti Un libro onesto Semplice Alla portata di tutti Se viene letto Con un poco di fiducia E attenzione Potrà essere molto utile A voi e a vostri cari Grazie per la vostra attenzione Bene Grazie Davvero Una presentazione Ci ha fatto Ci ha aperto Anche tantissimi scenari Io ringrazio voi Per essere stati presenti Noi ringraziamo te Grazie a te Anche questa puntata Inserita ovviamente Sul nostro portale SiciliaTV.org Sarà presente Già nei prossimi giorni Quindi non mi resta Altro che dirvi Di provare ad acquistare Il libro La dieta perfetta Del dottor Boiamonte E di scoprire Quali sono i veri Segreti Per una dieta Perfetta Grazie a voi Arrivederci Buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.